Marzia si avvicina alla quinta edizione dell'Expo del Levante, un appuntamento fondamentale per tutto il municipio, per tutti gli abitanti del territorio che per tre giorni, venerdì, sabato e domenica, potranno vivere il loro territorio con tante attività e iniziative. Assolutamente sì, speriamo di ripetere il successo avuto l'anno scorso, questa è la quinta edizione dell'Expo 2017, saranno presenti numerose associazioni sportive per cui ci saranno avvicinamento come per gli altri anni, per tutto quello che riguarda le arti marziali, un percorso di mountain bike, una piscina anche piuttosto grande dove potersi approcciare con la subacquea e la pallanuoto. Il tutto accompagnato con le focaccette che saranno preparate dal banco del CIV, ci sarà presente il camugin, il gelato della Carla e eventi musicali nella serata del venerdì, del sabato e della domenica dove ci sarà DJ Perro, animazione con Francesco, un'ora di nonna balla insieme a me per avvicinare i bambini al ballare, è liscio e quindi tutto speriamo condito da tanta allegria. Sport, spettacolo, allegria, modo di stare insieme è davvero una festa di tre giorni per tutti, giovani e non solo. Assolutamente sì, quello che cerchiamo sempre di fare è rivolgerci a tutti gli abitanti di Quinto e speriamo anche di altri quartieri di tutta l'età perché l'offerta è veramente ampia, anzi aggiungo che per quanto riguarda sabato ci saranno anche 25 bancarelle di creativi nel controviale di Quinto, e soprattutto per condire con anche un acquisto e la proposta dei commercianti sarà anche quella di riceverli con delle promozioni. Il CIV in prima linea nell'organizzazione di questo evento ci sarà da parte di tutti i vostri consorziati insomma anche aumento di apertura di orari e quindi disponibilità da accogliere il pubblico? Assolutamente sì, quello che auspichiamo sempre e che spingiamo a fare è il consorziato, la collaborazione e quindi con il ricevimento di tutto quello che può essere il pubblico presente e questo nei vari orari delle giornate. Quando si parte? Si parte venerdì 16 alle ore 17. Inaugurazione e poi un programma fittissimo per chi volesse informarsi su Facebook, su internet? Assolutamente sì, c'è la pagina Facebook del CIV Quinto, c'è il sito internet, ci saranno poste delle locandine, ci saranno delle informazioni soprattutto via web, sui giornali. Tanto sport all'Expo del Levante, l'Ardita Savat come sempre in prima linea, Piero Picasso, ci saranno tanti momenti di sport, tante attività proposte al pubblico? Sì, diciamo è il quarto anno che noi siamo presenti a questo Expo delle Associazioni organizzato dal municipio del Levante, il municipio è il quarto anno appunto che dà a noi l'incarico di curare la parte sportiva. Cerchiamo ogni anno di dare un palinsesto di spettacoli, di attività che sia sempre diverso. Quest'anno abbiamo anche la fortuna di poter contare sul pugilato che sarebbe comunque all'esordio assoluto all'Expo delle Associazioni perché con questa attività che è nuova, come sapete, per il 2017 per l'Ardita Savat, abbiamo il maestro Marco Nocentini che farà fare delle esibizioni ai suoi quattro agonisti Gallo, Traverso, Cilia e Pagano che hanno già esordito peraltro domenica a Stelle nello Sport. Questa bella manifestazione di pugilato che è stata organizzata dal comitato Ligure di Consuelo de Sena, quindi sarà un'occasione per presentare anche il pugilato. Poi ci sarà la Savat con incontri sia di assalto che di contatto pieno, anche questa è una novità perché negli altri anni abbiamo sempre fatto match anche internazionali, direi di grande rilevanza come tre anni fa a Nervi, piuttosto che poi a quinto Italia Serba e Italia Francia. Quest'anno invece saranno degli incontri non solo di contatto leggero ma anche di contatto pieno tra atleti delle diverse società Liguri. Avremo poi delle esibizioni di autodifesa, di Savat de France, dei maestri Mastra Andrea e Pagano che sono i due responsabili dell'Ardita. Insomma ci sarà un corollario di attività poi anche di presentazioni, di premiazioni, di cose, insomma dovrebbe essere sicuramente una serata molto simpatica. Un sabato sera che prenderà il via a partire dalle? Partirà alle 20 e andrà, io immagino, adesso dovremo fare un matchmaking e vedere un attimo come sarà la scaletta poi dei vari incontri ma in linea di massima andrà intorno alle 23, 23 e 30. Lo sport non si ferma qui, nei tre giorni ci saranno tante occasioni sportive, proviamo a citarle, a ricordare quali saranno le discipline sportive a disposizione? Ci saranno sicuramente delle attività inerenti alla ginnastica ritmica, ci saranno altre attività di sport da combattimento, come diceva la presidentessa del CIV di Quinto, Marzia Pellarini, con la quale collaboriamo per allestire questa manifestazione. Ci sarà anche la piscina a disposizione e ci sarà poi una serie di attività, alcune non vogliamo neanche ancora svelarle per creare un po' di sorpresa a chi interverrà in quell'occasione. Comunque invitiamo veramente tutti a venire per godere di quinto, insomma è comunque in ogni caso un contesto sempre molto carino, molto apprezzabile, soprattutto di sera col fresco. E venire, ci saranno gli stand gastronomici, insomma venire un pochettino a divertirsi, a passare una serata spensierata con noi e nel nostro caso anche ad avere un po' di adrenalina nel vedere questi incontri che sicuramente daranno un certo pathos anche per chi non è addetto ai lavori. Soprattutto perché si gareggia in una location davvero unica, questo lo possiamo dire? Diciamo che lascio sempre dire agli altri queste cose nel senso che non voglio apparire presuntuoso, secondo me gli eventi che abbiamo organizzato in questi anni, in primis dal porticciolo di Nervi appunto di tre anni fa anche a quinto, sono eventi non del tutto riscontrabili poi su Genova in altri momenti dell'anno, quindi secondo me la location è ideale.